Le segnalazioni di disorganizzazione e ritardi per la somministrazione del vaccino anti-influenzale arrivano da più parti, anche perché sembra che molti medici di base, avvalendosi della non obbligatorietà, hanno dichiarato che non somministreranno il vaccino, per cui le ASL sono letteralmente prese d'assalto con tempi lunghissimi di prenotazione, di cui la proposta del presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, Antonio Cammarota. Questa campagna di vaccinazione è voluta dalle istituzioni per isolare i sintomi che non sono del Covid, in modo da evidenziare ancora meglio la possibilità di aggredire il Covid, e però per non intasare le strutture sanitarie, e però poi alla fine si arriva allo stesso problema, perché tutte le vaccinazioni dovranno essere fatte, la gran parte, alle strutture sanitarie dell'ASL, che verrà appunto intasata. Di qui la mia proposta di fare in modo di coinvolgere le strutture mobili, non faccio nomi, ma insomma sono sotto gli occhi di tutti, quelle che hanno le ambulanze attrezzate, con tutti gli strumenti, e creare dei presidi nelle piazze, e i cittadini con la tessera sanitaria vanno a vaccinarsi, anziché aspettare settimane come invece si sta imponendo con questo sistema.